Il contenuto, qual è il vostro progetto? Allora, il nostro progetto è basato principalmente per aiutare persone non vedenti a affrontare il viaggio sul treno. Quindi praticamente attraverso una serie di sensori che installeremo sul treno e un'applicazione Android che i non vedenti potranno utilizzare, saranno in grado di muoversi nel treno dove di solito in realtà subiscono dei grossi disagi perché non conoscono la conformazione del treno. Quindi attraverso una serie di sensori sonori saranno capaci di potersi muovere sul treno e poter diventare a loro volta dei pendolari e poter usufruire così del servizio treno senza paura. Ed è una cosa fattibile? Certo, sì, sì, è una cosa super fattibile. Infatti abbiamo usato delle tecnologie molto standard, abbiamo usato il Bluetooth, che appunto è una tecnologia molto affermata e consolidata da molto tempo. e gli smartphone ormai, tutti gli smartphone non hanno Bluetooth, di conseguenza chiunque può accedere a questo servizio. Ok, noi siamo il Dream Team, io sono San Geprey e... Da dove vieni? Io vengo da San Marcello. E i suoi genitori? I miei genitori dallo Sri Lanka. Yeah.